Salve a tutti ragazzi, bentornati su Cose dell'altro cinema. Avrei dovuto fare questo video già da un po' di tempo, però il problema è che sto avendo un po' di problemi di salute e la cosa mi sta rallentando, infiacchendo, e... Sì, non sono proprio al massimo. Non sto sicuramente lavorando a pieno regime, né su YouTube, né su altro. Quindi mi scuso, mi scuso tantissimo, perché magari sono stato un po' latitante. Sono arrivato anche a caricare un video che era destinato tipo al mese prossimo, quello sulla musica anni 70, no? Era destinato al mese prossimo. L'ho caricato adesso per fare un po' di... un po' da riempitivo, diciamo così. Però c'è di buono che nonostante io sia fiacco, non propriamente la persona più allegra del mondo al momento, devo parlare di Game of Thrones e soprattutto mi dovrò concentrare sull'ottava stagione. Quindi non c'è da essere allegri, c'è da essere un attimino mortificati, giusto? Ecco, parliamo di Game of Thrones. Molti hanno descritto questo disastro come un qualcosa di abbastanza graduale, no? La quinta così così, la sesta, la settima è una merda. Altri invece mi hanno detto no, ma la settima è fantastica, è l'ottava, che fa schifo. Altri mi hanno detto la quinta è una merda, la sesta si riprende. Per me, perché tanto ho capito che è una cosa che dipende da persona a persona, direi che quinta e sesta non sono male. Soprattutto la quinta. Secondo me la quinta è la miglior stagione di Game of Thrones in assoluto. La migliore. Perché non c'è Bran. Non si vede mai il personaggio di Bran. Ebbè, ti pare poco. Il peggior personaggio di tutta la serie nella quinta non c'è. Meraviglia. Meraviglia. Eh, ma meglio di così non si può. Comunque, farò spoiler, ve lo dico ragazzi, perché non ha senso ormai. Voglio parlare di Game of Thrones liberamente. Ok? Ci sono dei momenti altissimi. Prima del finale di Game of Thrones ci sono dei momenti altissimi. La cosa che mi è piaciuta di più è stata il bilanciamento che finalmente questa serie raggiunge intorno alle stagioni centrali in quello che è il bla 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 e l'azione. Perché le prime stagioni di Game of Thrones hanno una scrittura meravigliosa dei dialoghi. Veramente capolavoro. Ok? Però, sul punto di vista dell'azione c'è un po' da ridire perché l'azione è poca. Ok? Non è sempre il massimo. Vorrebbe ma non può perché vengono chiamati in causa eserciti, migliaia di uomini, ma se ne sente solo parlare. Quando vediamo questi eserciti ci sono sempre quattro stronzi a cavallo con due bandiere in mano. Gli eserciti non li vediamo. Però, man mano che va avanti Game of Thrones sale il budget e anche queste situazioni, le scene di battaglia, le scene d'azione in generale sono realizzate molto meglio. Secondo me, toccando l'apice con una scena incredibile che mi ha fatto battere il cuore a mille, ovvero la battaglia dei bastardi. Jon Snow contro Ramsey Bolton. Una battaglia di una ferocia assurda. Preparata, preparata, attenzione, perché questo è il bilanciamento di cui parlo, preparata da una tensione emotiva incredibile. personaggi che sono stati costruiti al meglio per andarsi a scontrare non tanto sul campo di battaglia ma quanto proprio a livello concettuale. E quindi questa battaglia è bella perché è stata preparata bene prima, è bella perché è girata in maniera magistrale, sembra di essere là in mezzo a prendersi pacche in faccia. Incredibile, una scena incredibile che mai e poi mai mi sarei aspettato di vedere in un prodotto seriale. E questo è il punto, cioè, non stiamo parlando di un film fantasy che va al cinema con un budget incredibile e tu sai che ci butteranno su tutto, no? Fatemi ricordare qualche film di questo tipo che poi in realtà si è rivelato molto deludente. Per esempio Warcraft. Sono andato a vedere Warcraft, ragazzi, è una monnezza. I combattimenti non sono assolutamente entusiasmanti, sono soltanto un balletto. Il combattimento che ho visto nel Signore degli Anelli in cui l'elfo e il nano si sfidano a chi accoppa più orchi è un balletto, non ha nessuna ferocia, non percepisco alcun pericolo da quella lotta, è soltanto una coreografia bellina da vedere. Invece, la battaglia dei bastardi in Game of Thrones è un combattimento sporco in cui nessuno si muove come una ballerina, in cui tutti sembrano tremare di paura e agire soltanto fomentati dall'adrenalina. È un combattimento in cui chiunque finisce faccia a terra, se il buono finisci faccia a terra, verrai ricoperto di sangue e merda a cinque secondi dall'inizio. È una battaglia veramente che mi ha fatto tremare. Bellissima. Bellissima. E credo sia il punto più alto dal punto di vista ovviamente dell'azione di tutta la serie di Game of Thrones. Per me, eh. Perché poi non è che questo è l'unico punto. Poi ce ne sono tantissime altre di battaglie, ma poi ci arriviamo. E quindi secondo me la quinta stagione con il fatto che non ci sia Bran e questo blocco centrale di Game of Thrones con la battaglia dei bastardi è qualcosa di incredibile. Poi non mi ricordo se la battaglia sta nella sesta o nella quinta, non mi ricordo. Però insomma dopo la quarta questa secondo me è la parte migliore perché Game of Thrones diventa bilanciato. C'è tanta azione girata con i controcazzi, c'è tanto succo a livello di dialoghi, a livello di storia e queste due cose insieme creano un prodotto bilanciato secondo me in maniera perfetta. Poi piano piano, piano piano, dalla sesta stagione in poi, anche perché mi han detto che gli sceneggiatori hanno smesso di ispirarsi alle opere di Martin, sono andati avanti per i fatti loro, le cose cambiano e con tutto il budget a disposizione hanno cominciato a imbastire queste battaglione con queste inquadrature a volo d'uccello con questi eserciti sterminati e il tutto diventa estremamente impersonale. Questi eserciti si scontrano in maniera anche violenta, queste battaglie ci sono, non sono gira a temare, ma non sono la battaglia dei bastardi perché come ho detto prima la battaglia dei bastardi è preparata a livello emotivo in maniera perfetta. Dopodiché le altre battaglie che vediamo sono un mare di carne che viene maciullato e basta perché il punto è che il fulcro dell'ultima parte di Game of Thrones è sto maledetto re della notte, cioè il capo degli estranei, il capo stipite degli estranei se vogliamo e questo cattivo è il cattivo fantasy per antonomasia, ovvero un cattivo che non riesce ad odiare perché non fa nulla di male, è pericoloso, certo, è mortale, ma è mortale come lo sarebbe il coronavirus se fosse ovviamente una malattia più pericolosa di quello che è, no? Perché l'esercito dei morti in Game of Thrones decima l'umanità di trasforma in zombie, non è il coronavirus, però voglio dire è una malattia, sembra un'epidemia, non sembra un nemico, quello intendo dire. non è antipatico, non è cattivo, non fa nulla di efferato, è proprio, è il coronavirus, porco Giude, è un'epidemia. E quindi queste battaglie sono, boh, sì enormi, sto drago che viene corrotto dalla magia degli estranei e che combatte contro i draghi di Daenerys, ste navi dei Greyjoy fuori a Prodo del Re, cioè tutte le battaglie mi fanno cagare tantissimo dopo la battaglia dei Bastardi, ovviamente. E' proprio la battaglia fantasy che odio, molto asettica, pomposissima, con gli eserciti sterminati, sempre inquadrati dall'alto, così, non mi piacciono, così come non mi piacciono alcune soluzioni. Oltre alle battaglie che secondo me hanno perso tantissimo di mordente, cominciano ad esserci situazioni inspiegabili. Ma veramente? Cioè, allora, c'è una scena in cui muore un personaggio. Il personaggio è il fidanzato Dorniano della figlia di Cersei e Jamie, di Missella. Questo ragazzo muore ucciso dentro una nave, sembrerebbe, viene inquadrata una nave prima che ci sia la scena e comunque il posto in cui lui si trova sembra essere all'interno di una nave. chi lo uccide sono le figlie della cognata traditrice praticamente, sì, una sorta di cognanza, sposati per tipo una cognata. Queste tizie noi le avevamo viste sul pontile a Dorn mentre la nave si allontanava. Come cazzo ci sono arrivate? Io non ho capito. Ho fatto una ricerca su Google e ho visto che tante altre persone si sono chieste ma queste come ci sono arrivate lì? Altra scena allucinante. Quando vengono affondate le navi di Daenerys dalla flotta dei Greyjoy verso il finale Missandei il braccio destro di Daenerys cade in mare. Ok, ma cade in mare in mezzo a una tonnellata di immacolati tutti quanti in acqua c'è il fuoco c'è il bordello c'è il casino tu pensi ok è annegata e invece nelle mani di Cersei ma come cazzo c'è arrivata? È impossibile impossibile cominciano ad esserci queste stronzate cominciano ad esserci degli stacchi che ti buttano in confusione. L'intimidazione a opera dell'esercito di Daenerys a a Proto del Re avviene così neanche un episodio prima ci avevano detto che il suo esercito avrebbe dovuto fare non so che giro di pippo per tornare a casa avevano tutto un piano tutta una cosa invece stacco vedi l'esercito degli immacolati J. Milani sterli guarda tra l'altro in un posto che non sembra a Proto del Re sembra un deserto io ragazzi non metto le immagini per ovvi motivi però vi giuro ci sono delle scene che mi hanno lasciato completamente basito ma non solo me anche la mia ragazza abbiamo rimandato indietro perché ci sembrava di esserci persi qualcosa quindi è peggiorata la scrittura per quel che riguarda proprio l'incedere della vicenda perché poi si fa di un banale di un prevedibile fuori dal normale è peggiorata la messa in scena è peggiorato il montaggio è peggiorato tutto in Game of Thrones ogni azione corrisponde a una reazione sempre è dall'inizio che è così ecco perché è così interessante seguire tutti gli intrighi di palazzo le questioni politiche anche le questioni umane perché poi da quelle dipende molto in termini di di guerra in termini di pace in termini di tutto e invece poi verso la fine non esiste più una causa-effetto Game of Thrones smette di essere logico la smette di esserlo ed è quello il problema numero uno perché poi ci sono altri problemi forse ancora più gravi i problemi dell'ottava stagione di Game of Thrones risiedono nella cattiva gestione dei personaggi intelligenti non saprei descrivere meglio di così la situazione tutti i personaggi intelligenti di Game of Thrones smettono di essere intelligenti e diventano dei coglioni noi per sette stagioni anzi per sei per sei stagioni abbiamo assistito alla crescita allo sviluppo di personaggi come Dito Corto Varys Tyrion wow cioè questi tre personaggi questo trittico questo triangolo di menti partorisce dei giri delle lucubrazioni incredibili tu da spettatore ti fomenti nel vedere queste menti all'opera a un certo punto diventano tutti cretini si fanno mettere i piedi in testa da chiunque non sono più loro diventano o troppo buoni fessi diventano o fessi o completamente stupidi nel caso di Dito Corto Dito Corto si fa mettere nel sacco con una facilità estrema anche perché la storia porta alcuni personaggi ad essere o immortali o troppo forti vedi Jon Snow che viene pugnalato e torna in vita a un certo punto mi sembra di guardare Dragon Ball vedi Aria Stark che diventa lei è è un assassino di quelli di Assassin's Creed proprio un assassino fantasy che cambia volto che ha i poteri che può fare quel cazzo che le pare è il personaggio più forte di Game of Thrones Aria ma non forte nel senso caratterialmente è un personaggio che se vuole ammazza Gesù e no no la cosa bella di Game of Thrones era che nel suo essere fantasy rimaneva con i piedi ancorati a terra i draghetti di Daenerys che se magnano le pecore erano la dimostrazione di questo si si drago drago ti fai danni caga pure per terra da fastidio cioè non c'è più questa cosa non c'è più e Game of Thrones smette di avere un buon rapporto causa-effetto in ciò che succede i personaggi intelligenti sono scritti male Varys Dito Corto e Tyrion perché? perché per scrivere un personaggio intelligente o sei intelligente anche tu che lo scrivi oppure il personaggio esce stupido i personaggi intelligenti sono difficilissimi da scrivere difficilissimi perché è l'unico personaggio che se sei una capra non lo puoi scrivere io posso scriverlo un personaggio deficiente non ci metto niente sono il campione dei deficienti ma io non potrei mai scrivere un fisico nucleare non fa parte di me quel modo di pensare non potrei probabilmente Martin è una persona dalla mente estremamente tagliente per arrivare a partorire dei personaggi così evidentemente gli sceneggiatori di Game of Thrones non sono al loro agio con un personaggio del genere quindi lo banalizzano lo scrivono male lo impoveriscono e poi dolcis in fondo sull'ottava stagione assistiamo ai cliché dei cliché tutto è prevedibile è prevedibile che i fratelli Clegane si sfideranno ed è anche prevedibile che moriranno entrambi è prevedibile che Daenerys verrà accoltellata se ne sentiva la puzza da un'intera stagione non mi puoi fare questo tipo di soluzioni questo tipo di scelte dopo che fino a tre stagioni fa tu mi hai fatto saltare dalla sedia dalla sorpresa ma le nozze rosse ma chi cazzo se lo aspettava cioè quella roba è di una pesantezza unica quelle cose quelle bordate non ci sono più in Game of Thrones i personaggi cominciano ad avere quest'armatura il plot armor proprio che sai che non moriranno mai a un certo punto Jon Snow anche se un drago dovesse masticarlo per mezz'ora e ricagarlo tu dici no vabbè non è morto e questa è una sensazione che in Game of Thrones non è giusta Game of Thrones ci ha abituati sempre a personaggi che possono schiattare come stronzi prendete Cal Drogo Cal Drogo aveva la treccia di capelli lunga così perché lui non aveva mai perso una battaglia aveva vinto la gara a chi ce l'ha più lungo aveva vinto la gara a chi fa il rutto più forte era il dio di sto cazzo poi si fa un taglietto gli si infetta e muore come uno stronzo questo era Game of Thrones altro che Plot Armor non c'erano queste stronzate non c'erano e il finale dio ho detto la quinta stagione è bellissima perché non c'è Bran lui non c'è dalla sesta Bran torna torna e si rivela essere peggio di prima perché quando era ancora Brandon Stark aveva un minimo di interesse perché comunque era legato alla famiglia almeno magari si ricongiungerà la sua famiglia e magari gli menano sono felice anch'io però all'ultima stagione lui non è più lui lui è diventato il corvo con tre occhi dopo 18.000 sogni visioni chiamatele come vi pare di sto stronzo di ragazzino che corre dietro a un cello con tre occhi mentre tu ti sei fatto tre palle e così arrivi all'ottava stagione lui diventa il corvo con tre occhi diventa anaffettivo ancora più antipatico di prima ancora più freddo di prima e regna regna sul mondo sui sei regni perché poi non sono più sette perché il nord diventa indipendente regna sui sei regni perché tu sei saggio perché tu sei sto cazzo ma che merda ma perché ma perché Brandon perché quel personaggio di merda perché perché un finale così amaro non l'avevo mai visto ma non perché muore Daenerys accoltellata da Jon Snow quella è una cosa che potevo pure capire io l'avrei accoltellata quattro stagioni fa Daenerys però è proprio il modo in cui si risolve tutto seduti in cerchio tutti quanti che parlano tra di loro dobbiamo trovare un re per per i regni dai lui lui è proprio è quello giusto perché è antipatico non piace a nessuno scegliamo lui non lo vedete che è una merda lui sarà Game of Thrones è è un gran peccato ragazzi è un gran peccato io mi rendo conto di aver vomitato letteralmente vomitato quello che ho detto mi rendo conto che è un video spoiler che viene capito solo da chi ha visto la serie non sono stato molto descrittivo non sono stato molto pulito nel parlare però è l'unico modo in cui posso racchiudere la delusione per quello che ho visto ho cercato di codificare questa mia delusione e di dare dei motivi veri questo bilanciamento che viene a mancare a un certo punto c'è azione ma senza una costruzione adeguata la messa in scena che comincia a diventare carente con personaggi che si teletrasportano il fatto che molte situazioni cominciano ad essere telefonate queste cose penso che siano riscontrabili da chiunque i personaggi intelligenti che diventano tutti stupidi e l'appiattimento totale di tutto ciò che è il fulcro di Game of Thrones ovvero gli intrecci non c'è più un intreccio l'ultima stagione è arriva il re della notte dobbiamo picchiarlo dobbiamo andare a picchiare Sersi adesso chi diventa re? cioè è tutto piatto due fazioni uno contro uno uno contro uno uno contro uno non c'è più quel bellissimo gioco di potere che c'è sempre stato pessimo pessimo però rivedrei Game of Thrones anche soltanto per riguardare alcune parti di questa serie che tutto sommato credo che abbia fatto la storia credo che abbia cambiato anche un po' la percezione di quella che è una serie tv se non altro in me ha acceso la speranza ha acceso la speranza di guardare prodotti di matrice fantasy che però siano confezionati con i controcazzi perché come dicevo prima questo bellissimo rapporto di causa-effetto così crudo così veritiero che ha Game of Thrones ti porta assolutamente via da quella sensazione di farlocco che ogni opera fantastica ha ti godi le cose fantastiche ti godi i draghi ti godi questi costumi bellissimi ti godi i mostri gli estranei perché sono cose belle da vedere però di fantastico Game of Thrones in realtà ha sempre avuto solo e unicamente la componente visiva tutto il resto i personaggi si comportano come il più stronzo di noi umani e le meccaniche tra di loro sono meccaniche che potresti riscontrare anche durante una riunione di condominio questa è la bellezza di Game of Thrones secondo me comunque sia fatemi sapere cosa ne pensate voi fatemi sapere se anche a voi è piaciuta la quinta stagione perché non c'è Bran a me è piaciuta perché non c'è Bran forse la mia stagione preferita in assoluto